Ridatici reparti soppressi, a cominciare da quello materno-infantile. E' la voce dell'ex assessore comunale, nonché presidente del comitato di quartiere Torre Nord, Giuseppe Speranza, presente ieri mattina all'apertura dell'osservazione breve intensiva all'ospedale Maresca di Torre del Greco. C'è stata l'ennesima sceneggiata preelettorale, perché nel prossimo anno, nel 2025, si voterà. La nostra città, il nostro ospedale, ha bisogno di un reparto di neonatologia che ci è stato soppresso, ci è stato sottratto. Un appello rivolto in particolare al sindaco della città, Luigi Mennella. Mi rivolgo al sindaco che in campagna elettorale ha parlato tanto di filiera, ma di che filiera parlava? Della filiera di non fare, ecco, i reparti che mancano sono una cardiologia, docenza e una neonatologia che c'erano. Sono reparti che ci hanno soppresso, quindi chi deve intendere, intenda. La filiera che abbiamo, comune, regione, governo, si attivi. Magari per il prossimo anno, all'inaugurazione, speriamo di inaugurare il reparto di maternità. Una denuncia, quella di speranza, condivisa da molti cittadini anche sui social e al centro della mobilitazione portata avanti negli anni scorsi da associazioni e comitati per scongiurare il depauperamento della struttura sanitaria di via Montedoro. Ci tengo a sottolineare la prima battaglia per il non declassamento del Maresca e partita proprio dal comitato di quartiere Torre Nord, giù qui a Via Tironi. Io ero il coordinatore dell'intercomitato e veramente ci fu una grossa partecipazione. Poi man mano, man mano è andata sfumando.